Ciao, sono Stefano Mazzucato, il tuo personal trainer. Vuoi allenarti con me? Semplici esercizi per tenerci in forma in pochissimi minuti. Iniziamo dagli addominali. Per questo esercizio ci basta solamente una sedia. Ci sediamo, teniamo ben in alto la schiena e apriamo le spalle. Utilizziamo le gambe, le portiamo tese, soffiamo, esauriamo il soffio e ritorniamo in basso. Lo ripetiamo per 10 volte. Ok, ogni spinta è un soffio. Mi raccomando, attenzione alla schiena, sempre in alto, con le spalle ben aperte. E ora passiamo al secondo esercizio, sempre per gli addominali. Siamo sempre in alto con la schiena, aperti con le spalle, liberiamo le braccia e andiamo ad inclinare a destra e a sinistra, alternando le discese e soffiando ad ogni discesa. Dobbiamo mantenere bene aperte le spalle, soffiare quando una spalla scende verso il pavimento e continuiamo ad alternare. Questa volta le ripetizioni saranno 20. Il terzo esercizio per gli addominali partirà con le mani alla testa, con i gomiti aperti e la schiena sempre ben in alto. Questa volta creeremo una torsione. Ruotiamo il nostro corpo a sinistra e a destra, soffiando ad ogni torsione. Mi raccomando, le spalle ben aperte, i gomiti, in posizione e il soffio. Lo ripetiamo 20 volte. Con questi semplici esercizi, a casa o in pausa pranzo o sul posto di lavoro, otterrete degli addominali molto scolpiti e tonici. Un saluto a tutti voi da Stefano, il vostro personal trainer. Alla prossima!